Piante in piena fioritura dotate di un impianto completo per l'irrigazione. Sequestrate dai carabinieri di Petrosino e di Mazzara del Vallo insieme allo squadrone Liporto Cacciatori di Calabria, 1.448 piante di marijuana. Vincenzo Salvatore Marino, 58enne di Marsala, aveva affittato alcuni mesi fa diverse serre in contrada gurgo balata da utilizzare per la coltivazione di canapa indiana. Un'estesa ed immensa produzione, quella realizzata da Marino, con piante alte fino a 1,60 m. Le diverse perquisizioni hanno permesso alle forze dell'ordine di rintracciare la piantagione. Sono stati sequestrati un fucile Beretta calibro 12 e un centinaio di cartucce, denunciate ma tenute senza alcuna misura di sicurezza, nell'abitazione dell'uomo incontrata bambina a Marsala. Dopo è stata la volta delle serre, il 58enne avrebbe inutilmente cercato di entrare nella coltivazione dall'ingresso secondario per sfuggire alla vista delle piante di cannabis. L'uomo, denunciato per omessa custodia di armi, è stato condotto nel carcere San Giuliano di Trapani per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti all'interno di serre. La piantagione sequestrata ed estilpata sarà adesso distrutta.